Amiche e amici tifosi pisani benvenuti o bentornati sul canale in questo nuovo video siamo alla vigilia di Carrarese Pisa il derby della Toscana che arriva dopo la terza sosta di questo campionato sappiamo che dopo la sosta insomma si è sempre un po' un'incognita il Pisa per ora non ha fatto mai male dopo le soste quindi ci aspettiamo una partita importante da parte dei ragazzi di Mister Inzaghi Mister Inzaghi che ha già fatto la sua conferenza stampa questa mattina ha anticipato un po' quali sono le dinamiche per questa gara annunciando come già era uscito sui giornali stamattina l'assenza di oltre Mario Smarin che lo sappiamo dall'ultima gara in quanto è stato ammonito e di conseguenza squalificato per somma di ammonizioni sono assenti anche Tramoni e Moreo praticamente i due trequartisti titolari per se così possiamo dirli da questa da questo inizio di stagione ha detto che Marin sarà sicuramente sostituito da Oilt mentre per quanto riguarda Moreo e Tramoni saranno i tre tra virgolette riserve in quei ruoli dove abbiamo Vignatom, Lacar e Arena due partiranno titolari e uno subentrerà a partita in corso Inzaghi è sempre molto fiducioso per quanto riguarda i suoi ragazzi che stanno dimostrando di dare il tutto e il massimo chiunque giochi lui infatti dice sempre di avere 23-24 giocatori da poter schierare tranquillamente anche a occhi chiusi come aveva detto anche nell'ultima conferenza stampa e quindi questa partita deve essere preparata al meglio possibile perché la Carrarese è una squadra tosta che soprattutto tra le mura amiche da quando è tornata allo stadio dei Marmi non ha ancora perso, due pareggi e una vittoria è una squadra allenata molto bene da Mr. Calabro che darà sicuramente filo da torcere a tutti e venderà cara la pelle per potersi salvare in questa Serie B in cui ci sta abbastanza bene la squadra giallo-blu Carrarina quindi è una partita un po' trappola perché è molto più facile preparare come ha detto il mister partite con la Sampdoria contro la Cremonese è più difficile magari prepararle contro squadre tra virgolette di seconda fascia anche se poi in Serie B le fasce lasciano sempre il tempo che trovano il discorso dei tifosi quindi ecco l'unica cosa insomma Mr. Inzaghi ha detto in conferenza stampa che il Pisa non avrà il supporto dei propri tifosi a Carrara in realtà si è espresso a mio giudizio male voleva dire che mancherà la tifoseria organizzata che è uscita con un comunicato proprio questa mattina dove rivendica il fatto di non aver voluto partecipare a questa corsa il biglietto che si è scatenata all'uscita della prevendita per Carrara solo 620 posti a disposizione e i gruppi si sono un po' sottratti per lasciare ovviamente spazio a chiunque altro volesse partecipare a questa partita gruppi della tifoseria organizzata che andranno ad accogliere e a sostenere la squadra fuori dall'hotel Principe di Piemonte a Viareggio dove sono in ritiro per dare ovviamente il supporto che è sempre garantito da parte della Curva Nord però ecco una parte di tifoseria e molti tifosi al seguito ci saranno anche domani a Carrara quindi questa è un po' la presentazione della gara ripeto le due assenze sono assenze importanti perché Tramoni e soprattutto Moreo che fino ad ora aveva giocato praticamente tutte le partite era un elemento di grande forza e di grande importanza soprattutto per il centrocampo e per i recuperi palla anche dietro quindi un in bocca al lupo a Stefanone e a Matteino Tramoni Mario Smarion ovviamente rientrerà tranquillamente per la partita col Cosenza mentre gli altri due non sappiamo ancora precisamente i tempi di recupero quindi questa sarà Carrarese e Pisa io vi aspetto domani con il commento a caldo subito dopo la partita e poi domenica con la live reaction vi ricordo che su TikTok come tutte le settimane sono già usciti i miei pronostici per la quattordicesima giornata quindi seguitemi anche lì e come sempre forza ragazzi forza Pisa voglio lanciarvi anche una sfida allora ci ho pensato visto che è uscito il post poco fa del Pisa Sporting Club che diceva che ci sono solamente 100 maglie di quelle speciali usate contro il Catanzaro vi sfido se entro la fine della partita contro il Cosenza domenica prossima primo dicembre quindi intorno alle ore 17 raggiungiamo i 700 iscritti sul canale comprerò la maglia speciale del Pisa a 150 euro e vi dirò di più e rilancio se entro quella data e quell'ora raggiungiamo i 1000 iscritti mi compro maglietta, pantaloncini e calzettoni per un complessivo di oltre 200 euro ma questo per voi lo farei molto volentieri e quindi vi sfido vediamo chi la vince se voi o io perché se perdo io sono 200 e passa euro così anpassan come regalo di Natale e come sempre forza ragazzi forza Pisa grazie a tutti